Cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori, i capitani, le bandiere. Quello che non cambia è sempre la stessa storia. La Juventus è campione d'Italia per la nona volta consecutiva. Il minimo comune denominatore? La società. Andrea Agnelli, Pavel Nedved e il loro entourage. E persino quando ha mollato Giuseppe Marotta, al suo posto Fabio Paratici, non solo si è dimostrato all'altezza, ma ha anche portato il grande colpo degli ultimi anni, cioè Cristiano Ronaldo a Torino. Nove scudetti consecutivi e allora, nella nostra pillola di oggi, abbiamo una storia che forse non conoscete. Nove storie da ricordare. Dicevamo dei capitani e delle bandiere. Abbiamo Bonucci e Buffon, che come sapete hanno abbandonato il progetto Juve, ma solo per un anno e due. Poi sono subito tornati indietro, sono subito tornati indietro sui loro passi. Non ho scudetto di fila, ma attenzione, è stato anche il campionato meno visto di sempre a livello di telespettatori. Un crollo del 40%, dal 6,5 milioni a 4 milioni. C'era voglia di calcio dopo il lockdown, tant'è che il 27esimo turno, il primo post-emergenza Covid, ha avuto gli ascolti precedenti al coronavirus. Ma poi i telespettatori hanno lentamente abbandonato il nostro calcio. Come a dire, avevamo fame di Serie A. L'abbiamo vista, non ci è piaciuto. Il livello è stato molto, molto più basso delle attese. Ma attenzione, anche il campionato di Serie A sta perdendo di valore, se vogliamo, perché per trovare una squadra che vince nove scudetti di fila, bisogna andare a vedere i campionati minori, come quello di Gibilterra. Il Lincol è un'altra squadra che è riuscita a vincere nove o più scudetti di fila. O anche lo scontoriga della Lettonia. Insomma, l'Italia come il campionato Lettone e come il campionato di Gibilterra. È evidente che quell'equilibrio che va contraddistinto a lungo il nostro campionato è ormai lontano e questo ci rende in qualche modo compatibile allo stesso piano di un campionato che può essere quello minore, se non di più, come appunto quello di Gibilterra o come quello bielorusso o come quello Lettone. Andando avanti c'è un argomento chiave per i tifosi e non soltanto. Che cosa farà Cristiano Ronaldo alla fine di questa stagione? Che cosa farà anche l'argentino Di Bala? Ronaldo ha reso al di sotto delle attese. Questo è sotto gli occhi di tutti, anche se è stato protagonista di una campionata in cui ha infranto parecchi record. E si è anche espresso in qualche modo fonti vicine all'ambiente bianconero. Insomma, non è stato soddisfatto della squadra. Si aspettava che fosse più forte Di Bala. A Sarri non piaceva all'inizio del campionato. Era stato messo in disparte. Poi però è stato decisivo per la seconda parte della stagione. Questi due giocatori potrebbero abbandonare la Juve alla fine dell'anno, anche se c'è una trattativa tra l'argentino e la società bianconero. Ovviamente tutto dipenderà da come andrà a finire la Champions League, perché da lì dipende, come dire, il destino sia di CR7 e sia di Di Bala. Un'altra storia è quella che riguarda una retrocessione. Com'è possibile? Cioè la Juventus ha vinto lo scudetto, ma è anche retrocessa. Ebbene sì, però state tranquilli. La cupola di Calciopoli non c'entra niente. Parliamo di borsa, perché la Juventus è uscita proprio quest'anno dalla top 40 della borsa italiana per capitalizzazione, dopo 15 mesi di permanenza. Purtroppo in un anno il titolo ha perso più del 40%, scendendo sotto gli 88 centesimi ad azione. Un anno fa le azioni valevano più di 1,7 euro. Qual è stata la chiave, qual è stata la causa principale? Beh, insomma, l'eliminazione dalla Champions League la scorsa stagione contro l'Ajax. Da quel momento i titoli hanno perso molto il loro valore e anche l'arrivo di Sarri non ha soddisfatto quelle attese secondo cui poteva essere Pep Guardiola, il nuovo allenatore della Juventus, che avrebbe invece, stando insomma a quanto visto quando si erano diffuse le notizie che forse il mister spagnolo sarebbe stato il prossimo allenatore della Juve, le cose sembravano migliorare per l'andamento del titolo Juve. Curioso il fatto che la Juve abbia abbandonato la top 40 lasciando spazio a Mediolanum, che è un istituto bancario riconducibile al nome di Silvio Berlusconi. Qui abbiamo un'altra fotografia, ed è, non ha bisogno di presentazioni, si tratta dell'avvocato di Gianni Agnelli, forse la figura più importante in assoluto per la Juve. Eppure stava per tradire la Juventus e in qualche modo i tifosi. Perché? Perché c'è stato un anno negli anni 50 quando la Juve era ben lontano dalle vette della classifica e anche il Torino non è che se la passasse così bene, arrivava dalla tragedia, dal dramma di Superga. Ebbene, l'idea di Agnelli fu, e se unissimo Juventus e Torino in una squadra sola, perché vedere due squadre di Torino che arrancano non è bellissimo, è molto meglio forse vedere una squadra sola in grado di competere sia in Europa che ovviamente in Italia. Ebbene, ovviamente ci fu una sorta di rivolta da parte dei tifosi, ma la figura che mise un po' d'accordo tutti, Agnelli compreso, fu Vittorio Pozzo, l'allenatore dei primi due della Nazionale che vinse i primi due mondiali. Pozzo in un articolo, perché era anche giornalista, non era solamente allenatore, scrisse come la cosa non sarebbe stata mai e poi mai accettata né dai tifosi né dalle varie società. Insomma, chi conosce bene lo spirito che anima il tifo torinista, lui era, diciamo, il baricentro era spostato su quello granata, dato che ha già, aveva allenato, insomma, la squadra del Torino, chi anima il tifo torinista non può assolutamente pensare che una fusione sia possibile. Questo è uno dei passaggi che scrisse appunto Vittorio Pozzo. Andando avanti, un'altra storia interessante è quella che riguarda, beh, insomma, le origini del nome Juventus e dei colori, e dei colori bianconeri che vediamo anche qui. Beh, insomma, la squadra nacque grazie a un'idea degli studenti del liceo Massimo D'Azeglio di Torino. Chissà se avessero mai, se hanno mai immaginato che saremmo arrivati a un punto in cui la Juve vinceva nove scudetti consecutivi. Proprio dagli studenti deriva il nome Juventus, Juventù, anche in virtù del fatto che già esistevano due squadre di Torino. Insomma, era difficile trovare un nome che fosse in qualche modo collegato al Torino. Data 1 novembre 1897, poi, insomma, si va a creare una società già più strutturata. Quando si trattò di trovare i colori per le magliette, inizialmente si giocò con una camicia, ebbene sì, si giocava in camicia bianca e calzettoni neri, abbastanza così, insomma, molto povero anche a livello di fantasia. Poi subentrò una maglietta col cravattino rosa, ma il fatto che durante i lavaggi il colore si andava a perdere molto facilmente, e anche l'idea che il rosa non fosse così virile, ebbene, insomma, spinse la dirigenza della Juve a chiedere a una ditta di Nottingham di trovare delle divise adeguate. Il problema è che la Juve però non chiese a questa ditta di Nottingham, non disse alla ditta di Nottingham quale fossero i colori. E siccome Nottingham è la città del Notts County, sostanzialmente la ditta inviò praticamente i colori e le divise che indossavano i giocatori del Notts County. Da lì c'è stato anche un gemellaggio che permane tuttora. Rimaniamo qui perché vi raccontiamo anche da dove arriva la, come così, insomma, la rivalità sportiva, una delle più forti in assoluto in Italia, tra Juventus e Fiorentina. Ci sono vari aneddoti, ma il primo, diciamo, forse quello più scatenante, bisogna tornare indietro quasi di 40 anni fa, era il campionato 81-82, duellavano Juventus e Fiorentina per la vittoria finale dello Scudetto, appaiate all'ultima giornata. Ebbene, cosa accadde? La Juve a Catanzaro portò a casa la vittoria grazie a un rigore fischiato a un quarto d'ora dalla fine e realizzato da Liam Brady. L'irlandese pochi giorni prima aveva ricevuto un messaggio importante non sarai con noi la prossima stagione, rinunciamo a te perché vogliamo fare un progetto nuovo. Eppure lui andò a segnare il rigore e festeggioco i compagni. A Cagliari, dove invece giocava la Fiorentina, l'arbitro annullò un gol a Ciccio Graziani. Allora giocava la Fiorentina nell'indignazione totale di giocatori e di società. Famosa la parola, famosa la frase di Franco Zeffirelli che disse ho visto Boniperti mangiare noccioline in tribuna, sembrava un mafioso americano. Ovviamente volarono le querele, finì sostanzialmente in querela, lui era un tifosissimo della Fiorentina e questo fu sostanzialmente la causa scatenante. Poi c'è anche un'altra partita di finale Coppa UEFA negli anni 90 in cui Celeste Pind, difensore della Fiorentina, al termine della partita persa 3-0, urlò ai microfoni della Rai, ladri in aggiunta insomma a una rivalità che era già molto molto forte. Andando avanti da Juventus-Fiorentina, vi ricordo, vi do anche un altro aneddoto, siamo all'ottava storia. Non è solamente la Juve la squadra che ha vinto più scudetti in assoluto e che ne ha vinte 9 di fila, record imbattuto appunto in Italia, ma anche il Piemonte è la regione con più scudetti in assoluto. Sono 51 perché ai 36 della Juventus, di cui due eravocati, abbiamo anche i 7 vinti dal Torino, dal Grande Torino, i 6 della Provercelli e poi lo scudetto vinto dalla Casalese e quello della Novese tra il 1914, che lo scusa, e il 1922. In tutto sono 51, la Juve 36 è la somma degli scudetti vinti da Milano e Inter, 18 più 18, infatti la Lombardia è il secondo, è la seconda regione per scudetti vinti. Chiude la Liguria a quota 10. Terza regione con 9 della Genoa e un solo tricolore vinto dalla Sampdoria. Chiudiamo questa raccolta di storie, uno per ogni scudetto vinto consecutivamente dalla Juve, con Michel Platini e Giovanni Trapattoni, perché, come detto in apertura, la Champions League manca da troppo tempo. Era il 1996, ai rigori, i viali e i compagni sconfissero, l'Ajax, e fu la prima volta, chiedo scusa, la prima volta dopo sostanzialmente quasi 11 anni, quando appunto Platini e la sua Juve vinse allo Stadio Israel contro il Liverpool, dopo insomma la tragedia che causò la morte di 39 persone. Questa astinenza a Champions è un po' il motivo conduttore e sostanzialmente il principale sfottò del livore anti-Juventino, cavalcato un po' da tutti, i tifosi milanisti, interisti, però non è stato sempre così, nel senso che c'è stato un periodo in cui la Juve era la dominatrice assoluta dell'Europa calcistica. Il decennio di riferimento, perché si tratta di dieci anni circa, è quello tra il 1977 e il 1986, sempre guidata da Giovanni Trapattoni. I bianconeri furono i primi al mondo a raggiudicarsi tutte le competizioni dell'UEFA e quelle ufficiali per club, quindi Scudetto, Coppa Campioni, Coppa-Coppe, Coppa UEFA, Coppa Italia e Coppa Intercontinentale, con Giovanni Trapattoni e con Michel Platini, che come sapete si ritirò dopo aver vinto sostanzialmente la Coppa Intercontinentale, insomma era il 1986. Queste le nove storie che vi abbiamo voluto raccontare per ogni Scudetto vinto dalla Juventus e alla prossima pillola ovviamente informativa delle fonti TV. che vi abbiamo messa bene a tutti e alla prossima e alla prossima a tutti che vi abbiamo